Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questa è la seconda parte dello spacchettamento di Dragon Ball La prima l'ha fatta Maki e trovate il link in descrizione Io oggi aprirò i miei 12 pacchetti con l'aiuto del Supremo come l'altra volta Mi raccomando iscrivetevi, lasciate like e commentate Allora abbiamo i miei 6 pacchetti e qua quelli del Supremo Ora li apriamo Bene raga abbiamo fatto pari dispari e ho vinto io, inizio io Bene raga sto prendendo il primo Vediamo Allora Giriamo Piccolo, mi sa che ho sbagliato il trick Piccolo Bella, molto bella Goten versus Trunks, non ce l'avevamo questa mi sembra Liancun Bella anche questa Oh un'altra ragazzi Piccolo versus Snappa E poi Goku Super Saiyan Bella Bene raga adesso è il turno del Supremo Il Supremo ragazzi oggi lo vedo veramente carico Vediamo Ub Che Ub Poi Goku questa è brutta raga Veramente brutta come il personaggio tra l'altro Jit Dai Supremo Pan Majin Buu Veramente il Supremo ci sta deludendo Bene raga sta a me Vediamo Ok Allora Giriamo Uh questa nemmeno ce l'avevamo ragazzi Goku versus Vegeta Questa secondo me è una delle migliori Trunks Trunks Bella anche questa Bella anche questa Andiamo qui Capito Shin Pai Kwan Pai Kwan Pai Kwan E vediamo Beniditi Beniditi qualche pacchetta E se non si va avanti Ragazzi ho aperto E guardate cosa ho trovato Freezer Questa è bellissima Troppo bella Mamma mia Gohan Renma Guarda Supremo Questo è il grassomettere Vegeta vs Freezer Questa mi sa che ce l'avevamo E Vejeko Ragazzi questo pacchetto La benedetta il Supremo E si dice che ogni volta Che il Supremo benedice un pacchetto Trovi un Goku Vediamo Non ci credo L'ha trovato veramente Bello bello Questo mi sa che non ce l'avevamo Vai Majin Bu Un altro Goku Due l'ha trovato Piccolo Attenzione queste nemmeno ce l'avevamo L'abbiamo trovate tutte Raga mi raccomando poi Ricordatevi di commentare Chi l'ha trovato il migliore Allora Oh Kui Veramente bello Questo è un personaggio fortissimo Sa Vabbè questo facciamo finta Che non esista Bebidi Kaioshini insomma Bellissima raga Gotenks Super Saiyan 3 Ragazzi ricordo che In scontrizzata Sono quelli più belli Vediamo chi ha trovato Gon Scimione Trunks Vegeta Il personaggio migliore Genio Porunga Attenzione Cosa sono questi Boh ragazzi Non lo so Sono 4 tipo Codicini Non lo so Raga Siamo arrivati Agli ultimi pacchetti Raga Speriamo siano belle queste Vediamo No raga Super Vegeku Questa è la migliore Guardate che bellezza Questa è bellissima Veramente Ciccio a 7 Di nuovo Lo scontro Che secondo me È il più bello Magin Vegeta Contro Goku Che poi perde Goku Reccaio del sud E Cell vs Vegeta Ragazzi il supremo Ha deciso di benedire I due pacchetti finali Vediamo Hola Kazam Umron Bene raga Penso che adesso Hola Kazam Hola Kazam Poi non so raga Se avete notato Ma lui ogni volta Gli apre in maniera diversa Allora Vediamo Chi è questo Baby Umron Poi Vegeta Bellissimo Darbula Dende Attenzione Vegeta Complimenti al supremo Benedicili sempre i pacchetti Bene raga Apro la mia Allora raga Pui Pui Poi Nail Great Simon Guldo Oh questa qui Nemmeno ce l'avevamo Gotenks Contro Machinbu E poi altri codici Che non servono a niente Bene raga L'ultimo pacchetto Questo Sarà il mio ultimo pacchetto Che quindi Il migliore Attenzione Vediamo Trunks Per ora Non è niente di che Freeze Per essere benedetto C18 Uh Attenzione Goku contro C19 Questa qui Non ce l'avevamo E Goku contro Majinbull Ce l'avevamo Dai Forse n'era il migliore Però Va bene Tutto Raga Io non so come A Maki Gli possa Essere andato meglio Innanzitutto Il super vege Qua è la carta più bella Che abbiamo mai trovato Finora Poi abbiamo trovato Sto freezer Che è bellissimo Non so Veramente Abbiamo trovato 3 6 10 carte così Che non so il nome Veramente raga Non so È impossibile Che sia andata meglio Mi raccomando Ricordate di lasciare Like Di scrivervi E di commentare Chi ha trovato Le carte più belle Un ringraziamento Speciale anche Al Supremo Che mi dà sempre Una mano E diciamocela È un boss È un boss Le peggare Che qui mi dà sempre zerà